ciao a tutti benvenuto su un nuovo video ceci bonsai oggi sto in svizzera un'altra volta o sono ritornato si vede un po ha cambiato la temperatura e non sono più i 40 gradi allora ma pure bello stare in casa e stare un'altra volta con i miei bonsai e in questo modo volevo dire pure in italiano un grande grazie a quello che ha guardato sui bonsai in questi quattro settimane che sono stato in spagna avevo la fortuna davvero che direi uno dei migliori bonsaiisti in svizzera ha guardato sui miei arberi venuto tutti i giorni sono erano davvero nelle vacanze tranquilli senza preoccupazioni perché sapevo che stavano in buone mani allora in italiano pure grazie mille non voglio dare i nomi ma grazie mille quella persona sicuro sa che è lui perché faccio questo video perché volevo mostrare un prodotto nuovo che ho sul shop e volevo mostrarlo e spiegarlo prima di spiegare mostrarlo volevo dire sapete che quando tagliamo un albero un bonsai e prima di andare al prossimo si dovrebbe desinfettare la forbice o quello che si è utilizzato non che c'è una malattia e ce la portiamo all'altro albero quello si fa come lo facevo io prima sempre con il alcol c'avevo un po' di alcol lo prendevo e lo polivo ma quando era troppo nero o c'aveva già abbastanza dei dei conifere è un po' e io vedevo sempre altri bonsaiisti che utilizzavano qualcosa come una pietra e facevano zacc 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 e finito e pensavo ma non può essere che ogni bonsai dopo ogni bonsai non raffilare le forbice ogni bonsai non può essere e fino a che avevo visto questo collega stavo da lui prendendo un caffè stava tagliando le azzale e lo faceva pure e ho detto ma ogni volta fai dice no no questo non è per raffilare questo solo pulisce e dico ecco cosa è e me l'ha dato e mi ha sembrato pratico e ho detto mi puoi prendere uno e me l'aveva preso in augsburg ma aveva preso uno e questo qua che si vede che è già utilizzato e si tratta di questo qua è come una non è una pietra perché di di è flexibile oppure è come come quello che si utilizza la scuola più o meno ma un po più un po più forte diciamo e comunque togli davvero tutto toglie il ruggine toglie quello nero che rimane quando avevamo tagliato i conifere per esempio e togli davvero tutto è pratico è facile da tenere niente alcool niente niente e ho detto ma questo l'ho utilizzato e ho detto ma questo è geniale è davvero geniale questo lo voglio avere io pure nel shop e l'organizzato e ce l'abbiamo in due maniera nel shop ce l'abbiamo il bianco che diciamo più forte più grezzo che il rosso il bianco l'utilizzerò l'utilizzo quando già diciamo molto forbice che sono davvero sporche così e con il bianco ha molto meglio per utilizzare tutti i giorni se abbiamo le forbice sempre pulite diciamo con il rosso va benissimo allora abbiamo questi due stanno nel shop si trovano accessori niente le cose buone e pratiche che vedo che pratico da utilizzare e efficace tutto quello lo vogliono darlo pure a voi allora lo trovate nel shop quello era come piccola informazione noi ci vediamo al prossimo video il prossimo video parleremo della taxotium di Sicticum che ho qualcosa un po da ridere voglio farlo vedere e ci vediamo a quel video fino là grazie a tutti buona serata salutoni da qua dalla svizzera della regione berna e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao